Siamo a Cima Mulera, frazione di Piedi Mulera, perché tra una decina di giorni meteo permettendo partiranno i lavori sul cimitero frazionale. Che cosa sarà fatto? Allora, vi era fatto un intervento importante che era atteso da anni. Verrà sostituita la copertura dei loculi perché ci pioveva dentro acqua, con un materiale nuovo, una guaina particolare. Verrà sistemata un pochettino la discesa che porta al cimitero vecchio e soprattutto verrà fatto il nuovo impianto delle lampade votive. Ci sarà anche uno spazio dedicato allo spargimento delle ceneri? Sì, abbiamo ricevuto l'ok dall'ASL sia nel capoluogo che nel cimitero frazionale dove abbiamo individuato due aree per lo spargimento delle ceneri. Verrà fatta una zona con il praticello verde, le catenelle, le colline in pietra e una lapide unica dove verranno inseriti i nomi di coloro che vorranno spargere le ceneri. Scendendo verso il capoluogo, importante finanziamento per il rifacimento degli spogliatoi del campo sportivo. Sì, abbiamo ricevuto una bella notizia inizio anno. Abbiamo presentato un progetto a ottobre di 175 mila euro per il rifacimento intero e un piccolo ampliamento degli spogliatoi del campo sportivo. Ce l'hanno riconosciuto dalla regione Piemonte un finanziamento di 40 mila euro in conto capitale e 13 mila e 500 euro in conto interessi su un mutuo, un finanziamento che dovremmo sostenere col credito sportivo. È un intervento importante che serviva perché gli spogliatoi sono vecchi e obsoleti, col tetto in ethernet, insomma serviva un lavoro strutturale importante e finalmente potremo farlo. Con i fondi frontalieri invece si sta sistemando un po' una parte della piazzetta all'imbocco della Valle Anzasca. Sì esatto, con i fondi frontalieri 2016 abbiamo deciso di demolire quelli che era la vecchia pensilina per gli autobus dopo diventata bagni a servizio del vecchio bar in legno che è storico di Piedimulera. Una volta venuta a meno questa attività questa struttura è rimasta faticente e obsoleta, non veniva più utilizzata e quindi abbiamo deciso di demolirla, di crearci un angolo pedonale con una fioriera in sasso e dei punti luce. A maggio anche Piedimulera va a delizioni, si ripresenterà? Sì, mi ripresenterò, stiamo già lavorando, abbiamo fatto già qualche incontro, stiamo mettendo in piedi una lista che racchiuda una pluralità di idee, un po' di tutte le anime e le sensibilità del paese.